Buongiorno, eccoci qui col messaggio dell'anima di lui. Puoi farcela. Ok, allora qua c'è un messaggio di incoraggiamento che lui vuole dare a noi. Un messaggio di incoraggiamento, magari in merito a una prova che abbiamo da affrontare. Non so, mi vengono in mente nuove esperienze lavorative o magari esami. O magari comunque sfide che dovete affrontare in questo periodo e lui seppur non sempre al nostro fianco, al vostro fianco, vi dà questo messaggio. Puoi farcela, puoi farcela anche se io non sono lì con te. Ce la puoi fare tranquillamente perché hai tutte le carte per superare questo momento. Hai tutte le capacità per vincere la tua battaglia. Vai e spacca. Ok, vi auguro una splendida giornata.